musica ciao a tutti da Gentubers qui è Yaki e oggi volevo giocare a un server in particolare di Team Fortress che però sfortunatamente non è questo perchè non mi ricordo più come si chiama allora se qualcuno conosce i server di Team Fortress di sicuro ne conoscerò uno particolare dove si è solo dei piro cioè la modalità intendo dove si è solo dei piro e con il compressore bisogna deviare i missili che arrivano per cacciarli verso l'altra squadra solo che non mi ricordo proprio come si chiama con la modalità secondo me si chiamava Quidditch o qualcosa del genere però di sicuro ho detto una cazzata enorme infatti ho cercato Quidditch e non c'era neanche un server comunque oggi volevo usare in questa mappa che è particolarmente piccola che si chiama DM-Store PODY no bastardo volevo usare il grosso con la sua bella accetta taglia ananas non so perchè tutte le cose che tagliano devono tagliare per forza ananas per me come si dice il plurale di ananas? ananas 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 rimane ananas ahhh 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 overpowering ci stanno facendo un po' di spawn kill sono tutti lì ammassati dal nostro spawn che si entrano se per caso si mette male spia? no direi di no per caso si mette male uso il grosso oh oh e una kill dai mille quattro no bastardo il grosso che di grosso ci avrà soltanto il fisico oh 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 oho maledizione maledizione Sto facendo davvero Una partita pessima Oh Guardalo Ma se ti prendo Rido solo se ti prendo Oh ma questo qui Come si permette Dai proviamo ancora un po' Il Il Demoman Ma dai Ok basta cambiamo classe Prendiamo prendiamo Perché Non c'è scritto che adesso scusami se non mi ricordo come ti chiami Ti volevo citare Ah Francesco Ci ha comprato Un cappello Ci ha dato Un fottio di roba Veramente E quindi adesso abbiamo Tutte le cose per tutto Praticamente Proviamo No 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 Perché l'esploratore Usiamo il grosso Il piro Il cecco La spia No 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 Usiamo il grosso dai Andiamo un po' di grezzuria Però con la bestia O con il tomislav Dai gna con la bestia The beast Non so cosa sia ma voglio anche io quel pony Che c'era prima Piantato nella parete La bestia Dai Salta Valediziona te Che ti possa Soffrire Non so possibile Mi sta facendo una strage Proviamo a vedere se Con questo li metto un po' a posto Ah ma c'è un altro secco Ah c'è concorrenza Ehi ah no eccolo l'hanno visto Adesso ve ne esce Tango Oh 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 È strano perché queste chili non mi vengono mai quando registro Perché se non quando non registro mi vengono sempre Ovviamente Maledizione Maledizione Oh Ce n'era uno là Aia Dai 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 Baa Basta basta Cerco basta Prendiamo Il piro Ah 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 se qualcuno riesce a dimmi cosa cosa fa questo I danni Certo Ah no aspetta I danni rimuovono i sabotatori Che cazzo significa ragazzi Provate Scrivetemi nei commenti cosa significa quella frase Perché veramente Non capisco cosa possa Significare No ma è possibile che quando C'ho un nemico vitino Bam Oh l'ho preso Oddio Vieni qui bastardo Zack Oh l'ho preso Eh no beh era un altro Ma dai ma non è possibile Quello lì è impossibile da uccidere Sta citando sicuramente A parte quella la kill in questa partita Non ha fatto niente Eh 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 Bam Questa pistola è qualcosa di Imbarrassante Cioè guardate Guardate la forma Ma dove 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 No Dai proviamo un po' a usare le cose Tanto meglio usati tutti La ghigliottina La padella Via Let's go let's go It's time to Fap let's go inside Basta dai entra Lag Ah Succa Succa me lo bivì Oh Ma muori Ma muori Ma muori Oh Almeno mi so tolto un peso dal cuore Vediamo po' che non ricevo oggetti Oh Perfetto 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 Bivì incomincia subito Ad hackerare Ma c'ha un coltello Piatra in testa Si c'ha la mannaia volante Crepa 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 Non ci credo Non ci credo Ma crepa Ma dai Ma non è possibile Questa partita E' piena di hacker No non è vero Sono io che sono No beh basta Non devo Dire falsità Ma guarda Ma crepa Che ti credi di essere? Che ti credi di essere te poi? C'è chi mi che vengono all'assalto ma Ma non ha capito niente dalla vita Ma 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 ha deciso uno Oh ma stavo andando a fuoco Eh si stavo andando a fuoco It's time to fuck let's go Boom Oh Ma lo sapevo che sarebbe venuto un coso Perché loro mi uccidono? Io non ne ho fatta una di kill Dai proviamo a riprendere il grosso Guardiamo se Adesso la fortuna Ehi Ma guarda Non riesco a fare niente Adesso lo insulto Basta Adesso lo insulto Bibi Ciao Ecco Guardiamo così Impari a fare il nabbo Lo so Vorrebbe Non essere vivo in questo momento Sì ma io sono stupido Che fermò la carica prima Sono tutti in alto Come faccio a prenderli se sono in alto Con questa Ah 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 Oh lo ucciso uno Succa Eh si aspetto che colchi Eh Oh Oh lo ucciso uno Ok posso morire con Con dignità adesso almeno Beh direi che dopo la prima uccisione Con l'accetta Per questo episodio di Team Fortress è tutto Mettete mi piace Commentate E scrivetevi Per favore se qualcuno lo sa Mi dica come si chiama Quel tipo di serve Io avevo detto Eh Grin 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 Quindici avevo detto io Come cosa di Harry Potter Me lo sono andato anche a cercare Per poi scoprire che non si chiamavano così Serve E niente Da Sintubro c'è tutto Qui è Yaki Ci vediamo nel prossimo episodio In Fortress Sintubro c'è tutto